Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere ed ascoltare come faccio a registrare con questa batteria delle sovraincisioni e prenderò come prima traccia una bossa nova, dopodiché suonerò un altro ritmo sempre brasiliano che si chiama berimbao, poi suonerò in levare sulla terza traccia il campanaccio e sulla quarta traccia metterò il connacol, che è un ritmo cantato dalla voce. Ok? Il tutto verrà registrato con l'EAD10 della Yamaha e quindi questo piccolo video è stato tutto scritto e pensato da me. Ok? Allora andiamo con la prima traccia. Allora andiamo con la prima traccia. ok? Adesso io salvo questo la prima traccia e adesso suonerò il berimbao come ho già detto sulla prima traccia, sulla seconda. 1, 2, 3, 4 Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.